Bella ragazzi, eccoci con Keister Rail. Allora, una domanda che mi è arrivata molto, anche di recente, soprattutto da player nuovi o comunque a chi sceglie sempre se ottimizzare le risorse, eccetera, eccetera, è Conviene prendere le light con limite, ovvero dei personaggi che escono in rate up, ok? E la risposta solitamente è... dipende. Perché in alcuni casi la risposta è sì, 100%, perché sono alcune light con che possono essere usate su più personaggi, oppure la risposta è sì, 100%, perché questa light con più questo personaggio hanno un valore complessivo così alto per tutto l'account, insomma, che conviene comunque prenderla E a volte in realtà la risposta è assolutamente no, non ne vale la pena, c'è di meglio a livello di 4 stelle, 3 stelle o comunque altre opzioni molto valide, eccetera, 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 ok? Quindi quello che andiamo a fare oggi, andiamo a vedere ogni singola light con limited, ne parliamo un po', vediamo cosa fa, su che personaggi possono andare bene e vi do qualche mio parere intanto che vediamo queste cose, ok? Quindi andiamo subito e iniziamo, ok? Eccoci qua, allora, prendiamole singolarmente e parliamo un attimo, vediamo un po' su chi vanno, andiamo in ordine di path Ovviamente ci sono path che ne hanno di più perché sono usciti più personaggi di quei path, path che ne hanno di meno perché sono usciti meno personaggi di quei path, ok? Magari teniamo questa grafica che ho fatto e l'aggiorniamo, pian piano che escono altre light con limited E ogni tanto facciamo un recap e cerchiamo di fare, rivisitiamo un po' la cosa, ok? Diciamola così Comunque, iniziamo da path destruction, abbiamo chiaramente qui le tre light con digi in glue, blade, imbibitor rispettivamente uscite con loro Iniziamo con quella di blade, then reachable side Allora, c'è da stare attenti quando parliamo delle light con limited alle stat di base Infatti vi ho messo in tutte le light con quali stat hanno di base a livello 80 Perché è importante perché tutti i moltiplicatori che noi buildiamo sui nostri personaggi che siano HP percentuale, attacco percentuale o difesa percentuale Scalano direttamente su queste statistiche delle light con più le statistiche di base dei nostri personaggi Quindi è importante anche capire quali sono le stat di base di queste light con perché variano da light con a light con e da path a path Quindi è interessante vedere anche quell'aspetto lì Comunque, intanto ve le lascio lì e non le nomino a livello di statistiche Però è importante che le abbiate lì che possiate vederle Allora, la light con di blade, chiamiamola così Ci dà 18% di crit rate, ricordo che poi è path destruction, ok? Ci aumenta gli HP massimi di 18% E quando veniamo attaccati o consumiamo i nostri HP aumenta il danno del 24% finché non attacchi Quindi è una durata in turni, quel danno ce l'abbiamo finché non attacchiamo col personaggio Perfetto Questa light con ovviamente è ottima per blade, per arlan e per clara Perché? Perché clara aumenta l'aggro per venire attaccata Blade consume i propri HP, arlan consume i propri HP E tutti e tre i personaggi vogliono aumentare il loro danno percentuale In realtà, considerando che i nostri personaggi sono destruction E hanno un aggro un po' più alto, ovvero hanno una probabilità più alta di venire attaccati rispetto ad altri personaggi E sta bene un po' su tutti Perché il 18% di crit rate aiuta tantissimo tutti i nostri personaggi destruction Che non prendono crit rate dalle trace O che magari tendono a usare un planner come Rutilant Che vuole il 70% di crit rate Quindi in realtà questa light con possiamo tranquillamente usarla anche su hook Sul main character, su imbibitor, su xuei Sta molto bene, ok? L'unico forse personaggio destruction che non ha bisogno di questo crit rate O non ha bisogno dei danni aumentati e nemmeno degli HP Probabilmente è jingryu, ok? Quindi questa per me è una light con fantastica da avere sull'account Perché puoi metterla su letteralmente tutti i personaggi destruction E farli funzionare maledettamente bene, ok? Questa è un'ottima light con e è una di quelle che consiglio Questa è una delle, secondo me, tre light con limited su un cast rail da provare a prendere, ok? Ma comunque passiamo a quella dopo Passiamo a quella di jingryu I shall build my own sword Bellissima light con chiaramente le art e le light con sono tutte molto belle Ma vabbè lasciamo stare quello Vediamo che questa light con rispetto a quella di prima ha meno HP Ovviamente ha più HP perché è una light compensata per Blade, no? E Blade scala in HP, quindi ha senso Però ha più difesa, se non sbaglio sì, ha più difesa Ci dà 20% crit damage Quindi qua cambiamo la stat di base di partenza Ed è ovvio perché jingryu è un personaggio che prende 50% di crit rate Nel totale dalle trace Quindi è normale che non ha veramente bisogno di avere crit rate Ma comunque, quando un alleato viene attaccato o perde HP Attenzione, quando diciamo quando un alleato viene Si intende tutti tranne lei, ok? E lei guadagna una stack Per ogni stack aumenta il danno del prossimo attacco che fai del 14% Quindi ogni volta che un nostro alleato viene attaccato Prendiamo una stack, aumentiamo il danno del 14% Per ogni volta che un alleato viene attaccato o perde HP Perché perde HP? Perché jingryu con la sua skill potenziata toglie HP a tutto il team Quindi procca le tre stack immediatamente Cosa succede? Quando procchiamo tre stack Ignoriamo il 12% di difesa 12% di ignoro difesa Che è una statistica che va a toccare un moltiplicatore Che scala tremendamente bene con altri cali di difesa O fonti di ignoro difesa Insomma, no? Quindi è veramente una stat molto forte Quando la vediamo su una light con su degli idon o in un kit È sempre qualcosa che attira molto l'attenzione Per aumentare drasticamente i danni ai personaggi, ok? Adesso, ovviamente, chi è che può proccare questo effetto? Nel senso, quando un alleato viene attaccato o perde HP guadagni una stack Tecnicamente lo possono proccare tutti E il problema più grande di tutta questa cosa qui È che queste stack devono rimanere fino al prossimo attacco, ok? Quindi c'è quello E poi che ci dà crit damage Ora, tecnicamente il fatto che ci dà crit damage È buono su quasi tutti i personaggi Che magari non hanno buone stat di crit Dobbiamo fixarle E in questo caso, mi viene da dire Clara, Kshui Yi Il main character fisico, eccetera eccetera Ma onestamente io preferisco sempre avere più crit rate Sui personaggi che non prendono crit Quindi quella di Blade la preferisco molto di più E tutto sommato, questa light con Sì, possiamo usarla su Blade Possiamo usarla su Clara Su Kshui Yi Sul main character fisico Però è ottima veramente solo per Jing Liu, ok? Quindi questa per me Al momento Ovviamente, raga, queste considerazioni sono al momento Quando usciranno nuovi personaggi Questo cambierà E infatti aggiorneremo E faremo un video del genere Ogni tot, ok? Ogni tot personaggi limited Che escono nuovi, chiaramente E non personaggi light con Perché poi i personaggi 4 stelle Influenzano la scelta Del prendere o meno una light con Ma comunque Questa è Jing Liu È tremendamente specifica per lei Ovviamente Per chi voleva Avere una Jing Liu Già personaggio molto forte di base Ma completa Ha preso questa light con Ma solitamente si usa Solamente su di lei, ok? Però potete usarla anche su altri Se avete bisogno Eartha light con destruction Brighter than the sun Allora Questa light con è particolare Perché questa è la light con Che dà più attacco in assoluto del gioco Vedete che ha un attacco di 635 E fa una differenza assurda Quando andiamo a Buildare moltiplicatori di attacco O buffer Che sia un attacco Sui nostri DPS in questione Ci aumenta il crit rate del 18% E Per di tutto bene Nel senso che il crit rate aumentato È fuori di test È sempre una stat veramente buona da avere Sulla maggior parte dei personaggi Tranne che su Jing Liu Perché Ne prende 50 Ma in generale Quando chi la indossa Usa un attacco base Guadagna una stack per due turni Massimo due stack Ogni stack Aumenta l'attacco del 18% È l'energy regen del 6% Questa è una cosa Tremendamente specifica Al momento Perché gli unici due personaggi Gli unici due personaggi Che fanno attacchi base Con costanza Sono Clara E imbibitor C'è anche Blade Il problema è che Blade Non se ne fa niente Né dell'energy regen Né dell'attacco percentuale E probabilmente Nemmeno del crit rate Volendo Visto che usa il 7 HP Del crit rate Ok Quindi Non aiuta tantissimo Blade Devo dire la verità Non mi viene da dirlo Neanche puoi usarla su Penso sia veramente Una top light con su Clara Una top light con su imbibitor Però se dovessi scegliere Tra i light con limited Quale dare agli altri miei carry In termini di crit rate Probabilmente Sceglierei sempre Quella di Blade Cioè a dire che Questa di imbibitor Ha l'attacco più alto del gioco Quindi mentre Nel puoi usarla anche su Non ho messo niente Potrei mettere anche tutti Ok Questa è una light con Che potete usare Su tutti i personaggi Destruction Già solo per l'estatta di base Che ti dà E per il crit rate Quindi È una buona light con da avere Anche questa di imbibitor Diciamo che tra le tre La peggiore è quella di Jing Liu Non perché sia brutta la light con Ma perché è quella che possiamo usare Su meno personaggi possibili Ma in realtà Sono tutte ottime Chiaramente Ok Io vi voglio Solo dare un po' Il mio punto di vista Su La scelta della light con Insomma Comunque Per quanto riguarda Destruction Questo è tutto Passiamo ad Hunt Vi ho messo qui Anche quella di Ratio Ma non la sappiamo ancora E quindi L'ho messa lì Ma non ne parleremo Chiaramente E quando uscirà Farò un video dedicato Alla light con di Ratio Nello specifico Insomma Così vediamo Su chi può andare Se può andare su altri Eccetera eccetera Mi aspetto Sarà specifica Per lui Ma magari non lo è Quindi vediamo Quindi parliamo Iniziamo con quella di Zele In the night Quindi light con Che arriverà Con un'altra rerun di Zele Eventualmente Light con Con stat Classica 5.82 di attacco 4.63 di difesa Questi sono valori Che vedremo molto spesso Nelle light con limited Insomma Ci da 18% crit rate E vi ricordo Che siamo su personaggi Con path hunt Ok Solitamente hanno In qualche modo Modi di boostarsi Il crit rate Su tutti i light con Su tutte i light con Quasi tutte Comunque Per ogni 10 di speed Sopra al 100 Aumenta Il danno percentuale Degli attacchi base E delle skill Del 6% Massimo 6 stack Ok Quindi Da 100 a 160 di speed Ogni 10 di speed Aumentiamo il danno Dell'attacco base E delle skill Del 6% E Il crit damage Della ultimate Del 12% Per ogni stack Ovviamente Questo è un aumento Di danni Globale A tutto il kit Dei nostri personaggi Intero Ma Ha la condizione Che dobbiamo usarlo Su personaggi Che in qualche modo Si self buffano speed O che hanno una speed Di base molto alta E in realtà Per l'ant Non è una cosa Molto difficile E c'è da dire No E visto che Sia su shang Tramite idol E tramite passiva Sia zele Tramite idol E tramite skill E Yang shing Ha una speed Molto alta Di base Insomma E si aumenta Anche la speed E dan hang Anche a modi Di aumentarsi La speed Con la sua Seconda trace Tutti i personaggi Che sfruttano Tremendamente bene Il danno aumentato Della skill E crit damage Sulla ultimate E anche il crit rate Che vi viene dato Quindi in the night È la best in slot Di tutti i personaggi Hunt Che vedete lì Ok Anche perché poi Per quanto riguarda Il path Dell'hunt In realtà Sta arrivando Con il personaggio Che c'era addosso Mettiamo appunto Un debuff Questo debuff Stacca massimo Due volte Quando un alleato Attacca un nemico Che ha questo debuff Addosso Gli aumentiamo Il crit damage Del 12% Per ogni buff Quindi 24% Di crit damage Ok Quindi è letteralmente Una light cone Hunt Che può far funzionare Anche da sub DPS Il nostro personaggio Perché aumenta I danni fatti Da tutto il team Aumenta il crit damage Fatto da tutto il team Ci aumenta il crit rate E ci aumenta il follow up attack Damage Questa light cone È fantastica Chiaramente per chi Ha la possibilità Di applicare Follow up attack In questo caso Sicuramente Per ratio Sappiamo il suo kit Per top È fantastica Per yanshing È giocabile Perché comunque Gli da crit rate Yanshing Ha la possibilità Di fare follow up attack Damage Ha una chance E E può applicare Il debuff in questione Ok Poi di aumentare Il danno Del follow up attack Yanshing Non ci interessa tantissimo Perché non ha uno scaling Chissà che è elevato Però è qualcosa in più Ok Quindi si può giocare Tranquillamente Anche su yanshing E Direi che questo è basta Perché poi Quando uscirà Quella di ratio Vedremo quella di ratio Ok Ricordo Aggiornarò Questa grafica E poi faremo altri video E quando usciranno Insomma No Però in generale Per l'ant Vedete che abbiamo Due light con limited Che separano totalmente Le due tipologie Di personaggi Ant Che stanno arrivando All'inizio Ovviamente Quando è uscita Topaz Questa light con Era specifica Ma se continuano A uscire Personaggi Ant Basati Sui follow up attack Capite che Inizia a diventare Meno specifica Inizia a diventare Un po' più generica Per tipo No Quindi C'è sempre da vedere Un po' come escono I personaggi Però In generale Questa light con Il vero di Cosa da Per ogni personaggio Ant Che farà Follow up attack Sicuramente sarà Giocabile Ma ovviamente Se avete topaz Rimarrà su topaz Chiaramente Comunque Per quanto riguarda I light con Limited Passiamo al Path erudition Che è il Path un po' più Uff È strano Questo path È un bel po' strano Devo essere onesto Perché c'è una Light con Limited Assurda Che è Before Dawn Di Jingyuan Questa light con Penso sia Al momento Attualmente Una delle light con Che più impatta Il path Della quale fa parte Ovvero Erudition Light con Con stat Di base Classiche Quindi il solito 582 di attacco Che abbiamo visto Prima 463 di difesa Crit damage Più 36% Flat A chi la indossa Aumenta il danno Della skill E della ultimate 18% Punto Dopo che usiamo Una skill E una ultimate Guadagniamo un buff Se facciamo un follow up Attack Mentre abbiamo questo buff Ci aumenta il danno Del follow up attack Del 48% Quindi Prendiamo crit damage Aumentiamo il danno Di skill e ultimate E aumentiamo il danno Di follow up attack Fuori di testa Soprattutto su Best in slot assoluta Su Jingyuan Erta Imeko In realtà Al momento È la best in slot Su quasi tutti i personaggi Erudition Ok Perché non ci sono Altre opzioni Che danno Statistiche del genere O che danno Effetti del genere E possiamo tranquillamente Giocarla anche su Chinshue Argenti E Servallo Ok Al momento Letteralmente È una light con Che possiamo usare Su tutti i personaggi Erudition Anche perché La seconda light con Limited che è arrivata Quella di argentia An instant Before a gate Ci aumenta Secret damage Ma il secondo effetto È tremendamente specifico Quando usiamo una ultimate Aumenta il danno Dell'ultimate E basta In base all'energy massima Che abbiamo Ok Ogni punto di energy Equivale al 0.36% Di danno Quindi se abbiamo Ad esempio Una ulti che costa 100 energy Prendiamo 36% Di danno in più Ok Ovviamente Su argenti Era migliore in assoluto Perché Gli aumenta Il danno E la ultimate Argenti A 180 di energy Quindi Ovviamente Qui il danno Non è 36% Ma credo sia 50 Qualcosa Insomma Comunque arriva molto alto Ma Possiamo usarla Anche sui personaggi Erudition Che hanno Un costo Di energy Molto alto Cinshuè Jingyuan E poi in realtà Possiamo giocarla Anche per il fix Del crito damage Su Unimeco E Erta Ok Su Serval È un bel po' Bruttina Perché il costo E' di Serval È bassissimo Quindi non ha molto senso Ma comunque Questa è una lightcon Che a me Non è piaciuta Questa è una lightcon Che a me Non è piaciuta È tremendamente Specifica E adesso Non so che personaggi Erudition Vogliono far uscire In futuro Che abbiano Chissà che costi In ultimate Io spero Che non si ripeteranno Casi come quello Di Argenti Perché mi piacerebbe Fosse una cosa unica Per lui Però Vedremo Però Before Dawn Al momento È fuori di test È assolutamente La miglior lightcon Erudition Che c'è nel gioco E di fatti Che non annunciano Che non annunciano Tanti altri PG Erudition Nuovi Con nuove lightcon Limited Ma al momento In vista Non ce ne sono Però Vabbè Questo è per conto Riguarda L'erudition E Path dell'Armony Chiaramente L'unico PG Limited Che è uscito Dell'Armony È l'ultima Arrivata Ruan May Con la sua lightcon Pass self in the mirror Pass self in mirror Ok Comunque Stat di base E fortunatamente Ha la difesa un po' alta Ci interessa avere la difesa alta Sui nostri Armon Insomma E poi un po' di HP Gli HP sono relativamente bassi Avrei preferito Meno attacco Più HP E la difesa va bene Non lo so Perché se no andiamo a vedere La difesa che ci dà Ad esempio Before Gaze 4.63 1.058 Gli HP Gli HP Io qua Avrei preferito 400 qualcosa di attacco Più HP E più difesa Su una lightcon del genere Va bene Va bene Pazienza Non so perché gli è andato Quell'attacco lì Comunque Break effect Più 60% Quando usiamo l'ultimate Aumenta il danno del 24% A tutti gli alleati Per tre turni E se quando usiamo l'ultimate Abbiamo più di 150 Di break effect Guadagniamo uno skill point Inoltre Rigeneriamo 10 di energy All'inizio Di ogni wave Le wave sono tipo Quelle del pure fiction Che abbiamo tre wave Nel senso E Allora Break effect Più 60% Già limita Questa lightcon Letteralmente A tre personaggi Onestamente Che sono i personaggi Che hanno elementi O che hanno Un kit Che si può basare Su break effect Per quanto riguarda il kit Chiaramente Ruan Mei Sfrutta benissimo Il break effect Ottenuto da lei Perché poi Col break effect Che lei ha Aumenta i danni che fa Aumenta il danno agli alleati Eccetera eccetera Ma in realtà Break effect percentuale È un'ottima statica Possiamo giocare su Asta o Ania Perché elemento fuoco e fisico Hanno un danno da break Elevatissimo di base E aiutano con i danni Nel nostro team Nel caso in cui rompiamo Gli scudi con loro due Comunque Poi Aumentare il danno agli alleati A 24% E guadagnare skill point È una cosa ottima Sicuramente quindi Rimane per quei tre pg lì C'è da dire che L'assenza di energy regen È vero che c'è energy Inizio wave Ma non è la stessa cosa L'assenza di energy regen Fissa Non la rende Fantastica Su personaggi Come Bronia Ting Yun Yukong Ad esempio Ok Quindi diciamo che è proprio Una light con per loro tre Non la chiamerei La best in slot Di nessuno dei tre Tra l'altro Però è un'ottima light con da avere In generale È buona Quando vogliamo fare Delle build break Su questi pg O su futuri personaggi Harmony Chiaramente Però ci sono anche Delle opzioni Come memories of the past Che Mi verrebbe da dire Che memories of the past Essendo una quattro stelle Che si può solo pullare È quasi più rara Di questa qui Perché questa qui Bene o male La puoi prendere al 100% Se vuoi Quindi in generale È un'ottima light con Su questi personaggi Specialmente Luan Mei Però Non la considero Devo averlo Ok Soprattutto per l'Armony Quando hai light con come Machine codes Memories of the past Dance 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 La light con di bronia La standard Insomma L'Armony ha Un reparto light con fuori di testa Al momento E questo non è assolutamente necessario Però Aumentare danno ai nostri alleati E Prendere 10 energy Inizio wave Su tutti gli alleati Ah giusto Perché lì non l'ho scritto Il 10 di energy All'inizio wave È su tutti gli alleati Ok Quindi In pure fiction Questa light con È fuori di testa Però In realtà anche in memory Abbastanza buona Insomma Però Non è un must Ok Abbiamo delle opzioni 4 e 3 stelle Decisamente ottime Per il Path dell'Armony Insomma Comunque Per quanto riguarda Invece nihility Il prossimo Abbiamo due light con E poi chiaramente Sappiamo che sta per arrivare Black Swan E per l'Armony Sappiamo che sarà per arrivare Sparkle Ovviamente Però Non sappiamo ancora Cosa fanno le light con Insomma E se ne parlerà più avanti Per i path nihility Abbiamo la light con Limited di Silverwolf E la light con Limited di Kafka E tra l'altro Quella di Kafka Sta per tornare Quella di Silverwolf S'è appena andata Quella di Kafka Sta per tornare In rate up Con la rare rank E ci sarà dal 17 Insomma Partiamo però Da quella di Silverwolf Qui torniamo Nelle stat base Le light con Che abbiamo visto finora Quindi 5.82 di attacco 4.63 di difesa 1058 HP Molto Ehm Molto standard Insomma Allora Effect hit rate Più 24% E già Parte bene Se danneggiamo un nemico Con 3 o più debuffo Tiene il 12% Di crit rate Adesso Io quando ho visto Questa cosa Su questa light con Appena uscita Silverwolf Ho detto A me Sto effetto qua Non mi piace Ok Non mi piace Perché i personaggi Niriti che giochiamo Crit Se non per scelta Personale Perché dobbiamo Per forza Buildare crit Perché altrimenti Il nostro cervello Non ce la fa Non ce ne sono Se non Weld Ok Anche perché Una Silverwolf Normalmente Ad 0 Tendenzialmente Non build Crit Rate Ok E magari Preferisce Andare per una Build Break Effect Più supportiva HP Difesa Cioè Trama Non buildare Crit Perché poi Sono personaggi Che Oltre al Crit Dovano Buildare L'FT Rate La Speed Insomma Inizia Diventerà un po' Complicato Buildare CPG Crit Ma Il terzo Effetto Se attacchi Un nemico Con un attacco Base La skill O la ultimate Hai il 100% Di chance Di base Di mettere Un debuff Che aumenta i danni Ricevuti al nemico È il 12% Quindi Avere Effect T Rate E avere Questo debuff Che aumenta i danni Ricevuti al nemico È ottimo Su molti personaggi In realtà Quindi Una light Con che possiamo Giocare Sicuramente Su wealth Perché sfrutteremo Anche il crit Rate Su silver World Perché Chiaramente Tre o più Debuff Li mettiamo Quindi Magari Pian piano Che ottimizziamo La silver World Possiamo Andare a giocarla In una versione Crit Anche con Gli hydron Eventualmente E E poi In realtà Per l'FT Trait Per il debuff Che mettiamo Che aumenta i danni Presi al nemico Che ricordo Aumentare i danni Ricevuti al nemico È un moltiplicatore Totalmente Separato Nella formula Quindi È un danno Che si sente Anche quando È solo del 12% Comunque Per me È una light Come che possiamo Usare anche su Guinei Fan Sampo e Pela Perché non Luca perché è single target Ok quindi La possibilità Di applicare ad aria Questi debuff L'ha valuto Sempre di più Ovviamente Si può giocare Anche su Luca Perché l'FT Trait Aiuta E il debuff Aiuto Ok però In generale È una buona Lightcon Da poter usare E Diciamo che Per la Nielity Le scelte Sono tante E Incessant Rain Non è una Delle mie prime Scelte Però Tranquillamente Se ce l'avete È un'ottima Lightcon Da usare Sicuramente Se avete scelto Di prenderla Per silver Sappiate che Potete usarla Anche in contesto Di team dot O con wealth Anzi direi Che è la best in slot Di wealth Questa lightcon In assoluto Perché sono tutte cose Che lui vuole Comunque Passiamo alla prossima Lightcon limited Di kafka Patience Is all you need 5.82 di attacco 4.63 di difesa Anche questa Stat molto base Aumenta il danno Del 24% Punto Dopo ogni attacco Che fa Chi la indossa Aumenta la speed Di base Del 4.8% Massimo 3 volte Attenzione Aumenta la speed Di base Non la totale Che avete Quando attacchiamo Un nemico Hai il 100% Chance di base Di applicare Erod Che è semplicemente Un dot Elettro Che è considerato Shock E scala Col 60% All'attacco Inizio turno Adesso Questa lightcon Non è essenziale Per kafka Ma è ottima Su kafka Chiaramente E ha preso Tantissimo valore Questa lightcon Quando è uscito Un nuovo set Di relic Che ci dà Ignora difesa Per ogni dot Presente sul nemico Perché questa lightcon Aggiunge Tutti gli effetti Un dot in più Quando attacchiamo Quindi Diciamo che Ha preso Molto più valore Con l'uscita Del nuovo set Di relic Su tutti i dot In realtà Questa lightcon Che possiamo usare Su WinFan Su Sample Su Luca Possiamo usarla Anche su Pela Se vogliamo Per aggiungere dot Aiutare il nostro team E aiutare il nostro team dot Insomma O comunque Aumentargli la speed E fare in modo Che Pela Abbia abbastanza speed A avere perma ulti Anche se non giochiamo Una ropa energy Reson Magari una Pela Un po' più offensiva O comunque Quando giochiamo Pela con i dot Insomma È una lightcon Che ha preso Molto valore E che chiaramente Con l'uscita Di poi Nuovi personaggi Nihility Basati sui dot O comunque Personaggi basati sui dot In generale Diventa sempre più forte Ok Quindi è un'ottima lightcon Che può andare Su tutti i nostri dot Era in assoluto La migliore Su Kafka Ma possiamo tranquillamente Giocarla Anche su Personaggi in compagnia Di Kafka Quindi vi faccio un esempio Se Per qualche motivo Abbiamo due di queste lightcon Non farei Super in pose Ma Lo darei a due personaggi Ok Quindi C'è da dire che Le rod Se è già Do son nemico Non possiamo applicarlo Più di una volta Quindi no Forse è meglio Fare super in pose In questo caso Non lo so Perché mi interessava Anche l'aspetto Dell'aumento speed Insomma No Forse questa è una lightcon Da fare super in pose Perché così ci aumenta Ancora di più la speed E facilitiamo Il building Dei nostri personaggi Perché chiaramente Una lightcon Che ci aumenta Tutta quella speed Percentuale Ci aiuta A buildare In maniera diversa I personaggi Magari ottimizzare Il nostro attacco Il nostro break Il nostro effect T-trade eccetera eccetera Ok Questa in generale È una buona lightcon Da avere Ovviamente Se giocate Tot Ok Anche se C'è da dire che Si potrebbe giocare Anche Forse potrebbe giocare Anche su Welt Volendo a mente I danni Ti aumenta la speed Ma eh Non lo so Però non la pullerei Per aumentare la speed Di Welt Insomma Quindi vabbè Ok No Questi sono i personaggi Solo a quale giocherei La lightcon di Kafka Insomma Ma soprattutto per Kafka Ok Però anche qui Ci sono delle opzioni Onestamente Entrambi le lightcon Non sono per niente Un must have Ci sono opzioni 4 stelle Della nility Molto buone Cioè La 5 stelle Le simulette di universe L'ultima uscita Che ci dà Break effect energy Per me è fortissima Una lightcon molto forte Fermata E Eyes of the prey Di Sampo Che ci dà effect T Aumenta il danno ai dot Good night and sleep well Che è una fantastica Lightcon Che ci aumenta i danni Insomma Quindi Le opzioni nility Le abbiamo E non considero Nessuna di queste due lightcon Un devo averle Insomma Non siamo neanche Lontanamente ai livelli Di Quello di Jingyuan O di quella di blade Però sono lightcon Che se le abbiamo Sicuramente migliorano Alcuni dei nostri personaggi Lightcon limited Preservation Unica uscita Fino ad adesso Fuchsuan Con la sua lightcon Shea ready Shatterize E Chiaramente Essendo preservation Vediamo un aumento Drastico In stati di difesa E hp di base Inoltre La lightcon In se per sé Ci dà 12% Energy regen Che è una stat Fantastica E Soprattutto preservation E Max hp Più 24% Quando tu Perdi hp Aumenta il danno E gli alleati A 9% Questo è un effetto Molto specifico Di fuchsuan Perché poi in realtà Sia jepard Che march Seven Tendenzialmente Non perdono Non perdono hp Per via degli scudi Ok Però All'inizio di ogni wave Recupera l'80% Di hp Persi A tutti gli alleati Invece Questo è un effetto Che secondo me Se qualcosa va male Sia con march Che con jepard È un'ottima lightcon Ok Quindi sì È sicuramente La migliore in assoluto Su fuchsuan Ma visto L'energy regen Che dà E reputo L'energy regen Fondamentale Sia su march Giocata in una versione Effect T-trade Magari Sia su jepard Soprattutto su jepard Secondo me È al momento La miglior lightcon Che c'è a preservation Ovviamente Quella di jepard È molto buona Giocata sia su jepard Che su march Che su delay Diciamo che la preservation Ha già delle lightcon Buona E questa è una buona lightcon Da avere Il fatto è che Quell'energy regen È veramente forte In tutte le versioni Di questi personaggi Quindi ad esempio Fuchsuan Energy regen Chiaramente la vuole Prima ult E prima prende le stack Per poi recuperare HP March 7 È in una versione Quella che vediamo Più frequentemente Ultimamente Che è quella Permafreeze Con tanto effect T-trade Che vuole tenere Congelati gli avversari Ovviamente Prima ult È meglio è E poi jepard Che ovviamente Prima la ultima Io è Per difendere tutto il team Energy regen La valuto veramente tanto E Il recupero HP All'inizio di ogni wave Chiaramente È utile Sia in memory Che in pure fiction Quindi ci può stare Un ottimo effetto L'unica cosa è che È un must have No Soprattutto con quella Di jepard Che c'è in standard Ovviamente Possiamo farne a meno Però se l'avete presa È un'ottima lightcon Ok Questa è un'ottima lightcon Da avere Mi aspetto Non penso ci saranno PG preservation A quale farà schifo Questa lightcon qui Perché comunque Ripeto Quell'energy regen Che da Ha sempre molto valore Insomma Anche perché Non abbiamo Lightcon che danno Energy regen Per la preservation In versione 4 stelle O simulated universe Eccetera eccetera Quindi al momento Reputo questa lightcon Molto buona Da avere Insomma Però non è per niente Essenziale anche lei Perché abbiamo delle buone scelte Anche in versione free to play Insomma Ultimo path Non per importanza Abundance Allora L'abundance Sappiamo che Prima di passare Alle due lightcon La premessa Dell'abundance È che abbiamo Lightcon come Post stop conversation Che da energy regen Pure sulla ultimate Insomma È molto forte E comunque Abbiamo dei lightcon Abundance In realtà Anche perfect timing Che da Effect resistance E healing In base a quanta ne abbiamo Insomma Abbiamo dei lightcon 4 stelle Abundance Veramente forti E quindi Per fare in modo Che noi pulliamo Queste lightcon 5 stelle qui Deve esserci Qualche fatto Allucinante Perché Reputo Le lightcon Della Abundance Già Molto forti Di base Ok Di fatti È arrivata Quella di Luosha Echoes of the coffin C'ha 1164 HP 582 di attacco Quindi un attacco Elevato Per essere Per l'abundance Aumenta l'attacco Il 24% Quando attacchi Ogni nemico Che colpisci Rigenera 3 di energy Extra Massimo Nova energy Quando usi L'ultimate Aumenta la speed A tutti gli alleati Di 12 Questa lightcon È solo Per l'uosha Ok Allora Aumentare la speed A tutti gli alleati Di 12 Quando usi L'ultimate Potrebbe essere Buona su Tutti gli healer In realtà Il problema È che Tutto il resto Della lightcon È orribile Ok Nel senso Che 3 di energy Extra Rispetto ad avere Energy regen Non è niente 24% di attacco Aiuta solo l'uosha Gli HP Di base Della lightcon Sono Non sono Chissà quanto Alti L'attacco di base La lightcon Così alto Aiuta solamente Il washer Quindi Questa è Tremendamente Specifica Insomma Niente Per chi vuole un luosha Perfetto Ben benga Ma Non è Proprio questa qui Io l'ho preso Ok Io ce l'ho Questa lightcon Ma questa qui È la prima lightcon Che onestamente È easy skip Ok Io ve lo dico Ma comunque Va bene Passiamo invece A una lightcon Che per me È veramente Forte Questa Non sono riuscito A prenderla Perché C'era tutta una situazione Night of right E qui arriva la lightcon Di wow wow Attacco base Ne abbiamo meno Gli hp sono uguali E questo a me dispiace Un bel po' Ma la difesa è molto più alta Passiamo da 3,96 difesa Di coffin A 5,29 Di night of right Io qua avrei preferito Meno attacco E più hp Ho anche meno difesa E più hp Però vabbè Perché comunque Le cure Di tutti i nostri Healer Scalano con gli hp Aumenta l'energy regen Del 12% E come sapete Energy regen Sug healer È fondamentale Prima ultiamo Prima curiamo gli avversari Con l'ultimate Meglio è Soprattutto su personaggi Come Bailu Lynx E Wowo Che basano tutto Il suo kit Intorno ai loro Ultimate Insomma Ma comunque Quando un alleato Usa una ultimate Cura l'alleato Con meno hp Del 10% I loro hp massimi Quindi Qualsiasi nostro alleato Usa l'ultimate Prendiamo l'alleato Con vita più bassa Nel nostro team E lo curiamo In base al suo hp Ok Questo è già fortissimo Perché poi scomba Chiaramente col kit Di Wowo Che ha l'effetto identico Nel suo talento Insomma Inoltre Quando chi indossa Questa light Con cura un alleato Aumenta la cura In base all'attacco Del personaggio Che stai curando E poi ogni volta Che lo curi Aumenta di più Sempre questo scaling In attacco Insomma Quindi è Ottima per curare Tutti i personaggi DPS Che scalano in attacco Che Indovina un po' Sono tutti Tranne blade Ok Che poi in realtà Comunque anche blade C'ha un po' di attacco Insomma non è che gli fa schifo Ma comunque in generale Questa light con Per me è la migliore In assoluto Su Wowo e Bailu Ovviamente C'è il piccolo Inghippo Che da 12 Di energy regen E poi esiste Una light con Come post stop Che Aumenta l'energy regen Di 18 Se non sbaglio Che è un po' di più E a volte Aiuta veramente tanto A avere quel 6% Di energy regen In più Ma il resto Del Il resto Dell'effetto Della light con Secondo me È veramente Forte Anche su altri personaggi Quindi se ce l'abbiamo Ovviamente Oltre che a Wowo e Bailu Possiamo giocarla su Anche su Washa Possiamo giocarla su Link Su Natasha Però Se tu hai pullato Questa light con Mi viene da dire Che hai Wowo E quindi lo giochi su Wowo Ok Però in generale Questa era una buona light con Della abundance Ma ripeto Per l'abundance Abbiamo delle buone light con In generale Ok Post stop Perfect timing Anche cornucopia Una light con giocabile E Sempre su Wowo Si può usare Shared feeling Shared feeling Senza problemi Insomma abbiamo delle opzioni Free to play Veramente buone Per quanto riguarda Light con Della abundance E noi abbiamo finito In realtà Questa era un po' Tutto Recapi tutte Light con limited Volevo dirvi un po' La mia Su C'è di meglio C'è questo Questa per me È molto importante Questa per me Non è essenziale Eccetera eccetera Comunque Ovviamente Aggiorneremo E faremo video simili Quando usciranno Altre light con limited Faremo anche dei video Molto simili Per Magari Light con Del simulite Di universe Del forgotten Eccetera eccetera Comunque vi terrò Aggiornati E niente Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Se avete guardato Fin qua Io vi ringrazio Di cuore Perché Mi fa sempre Strapiacere Insomma So che So che alcuni di voi Guardano Guardano i video Mentre stanno facendo Altro Li tengono in sottofondo Qualsiasi cosa sia A me Fa sempre un sacco Piacere Grazie mille A tutti quanti E nulla Ditemi un po' La vostra Noi ci becchiamo Al prossimo video Alla prossima live E vi ricordo Che poi c'è Pulling live Per la run di Kafka E l'arrivo di Rati Ok Quindi non bello l'ora Va bene Ci becchiamo Alla prossima Grazie mille a tutti Bella Grazie mille a tutti